Contro di lui, all'anno rosso, da Roma, Alcentro Massimi! Alcentro Massimi! Alcentro Massimi! Al Pacino Rosso! il panno cidoso e gli ampi al peso di 57 di ogami con un regolo come in cinza 4,5 i conti disfrutati 3 ritori per lui una delle quali per la Giappò 2 sono subite a suo angolo Gabriele Venturini con Alessandro Lovenditelli per la BBD Production da Roma Alessandro Lossi R07 R7 R8 R7 R7 R4 R8 R 7 R8 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 R9 R6 R9 R9 Dove essere deciso con il sinistro, dobbiamo incercare, più preciso, via con il sinistro, ancora, due, tre, via sinistra, via con il sinistro, via con il sinistro, via con il sinistro. Dove essere deciso con il sinistro, via con il sinistro. Dove essere deciso con il sinistro, via con il sinistro. Dove essere deciso con il sinistro, via con il sinistro, via con il sinistro. Dove essere deciso con il sinistro, via con il sinistro. Dove essere deciso 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 con il sinistro. Grazie. Con le mani alte Davide, diretto a sinistro, fitto al primo, andetti in segno. Fai il gioco, fai il gioco. Sopra, dai, destra lo so. Dai, destra lo so. Minuto a mezzo, Davide, questo è bravo. Minuto a mezzo, dai. Sinistro. Dai, c'è un braccio destro, dai. Prima, tu, vedi prima. Dai, vai a destra. Davide, prima diretto a sinistro. Respira, respira. Davide. Diretto a sinistro, subito. Dopo a sinistro, dopo a sinistro. E sopra, Davide. Sì, rispondi, dai. Sì, rispondi. Sì, rispondi. Sì, rispondi. Sì, rispondi. Sì, rispondi. Non tirare, Samp. Non tirare. Diretto a sinistro. La trova, dei partiti a sinistro. Sotto, sotto, dito. Come viene? Che sta premendo a destra. Diretto a sinistro. Con le gambe. Destra, va. Vai, direttra. Sotto, sping. Vai,, direttra. Sotto, non tako. Sotto, gol, 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 gol. Ancora. Ancora. Sotto, gol. Sotto, stop, gol. Sotto, gol, gol. Super, sfida. Sotto, sping. Via, vi parti. Di partiti dritto. Sotto, riporti dritto. Di partiti dritto. Addit. Buon incrocio! Non ti ha passato, non ti ha passato, tieni su sta testa! Io da come ho potuto vedere io prima? Ma sta sulla parte! Sta sulla parte? Ah sta sulla parte! Ma questo è un buon cazzo! Ma avanti un attimo! Ma sono rotti! Vai vai vai! Ma che c'è rotti? Che ti dice? Non ti entra! 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 Non tirare, non tirare! Aspetta, a destra è close! Dai, dai, dai! Sinistra! Davide! Bravo! Così via! Bravo! Così via! Davide! 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 Grazie. Com'è? Non andiamo in strada. No, no, niente bene. O no? Grazie. Vice questo incontro per il campo 11 ad 1 minuto e 28 secondi della terza ripresa Alessandro Lossi.